Carissimi e carissime, trovate oltre 250 video dove si evince che non si vede alcuna curvatura nella playlist curvatura ed orizzonte e non solo sull'acqua, ma invito sempre a fare le proprie rilevazioni considerando di elevarvi e non stare sul pelo dell'acqua per evitare rifrazioni dovute alle piccole onde quando sono lontane e agli effetti dell'umidità nell'aria come state vedendo in questo video timelapse e se l'avete visto potete rivederlo cercando attraverso il fornito indice alfabetico la voce atmosfera quanto potremmo vedere lontano senza l'aria timelapse sul lago oggi usiamo semplicemente l'ultimo video dal canale di pablo's dog di cui trovate il link dell'originale nella descrizione nella sua ripresa si è posizionato a 14 metri dal pelo dell'acqua e ha ripreso varie piattaforme petrolifere che si trovano nel canale di santa barbara in california nel video specifica i dati di umidità che è del 30 40 per cento di temperatura di 17 gradi centigradi come l'acqua inoltre informa che durante la ripresa c'era la bassa marea la ripresa è stata fatta lunedì 27 novembre 2023 alle 4 e mezza del pomeriggio vi mostro anche la registrazione che ho fatto con google earth del giacimento petrolifero offshore di dos quadras e questa è la mappa di wikipedia quella che vedete qui è la piattaforma che andremo ad analizzare si trova ad una distanza di 21,2 chilometri ed è la più vicina fra le quattro del gruppo per la precisione è questa osservate bene ovviamente si vede la rifrazione che comprime la parte bassa e l'effetto specchio del nostro obiettivo fermo il video in modo che possiate vedere bene la linea che demarca quello che ho appena detto e adesso vediamo il calcolo della curvatura ad un'altezza dal pelo dell'acqua di 14 metri ad una distanza di 21,2 chilometri il nostro oggetto dovrebbe sprofondare di 4,8 metri quella che stiamo vedendo è l'immagine della piattaforma quando aveva ancora la vernice originale ed è per mostrarvi che la distanza dall'acqua all'incrocio dei sostegni è di 4,5 metri e adesso osservate i sostegni dovrebbero trovarsi almeno a pelo d'acqua la curvatura non c'è per chi desidera comprendere meglio attraverso l'indice alfabetico trovate moltissime altre analisi ed inoltre siccome molto importante consiglio di prendere in considerazione la prospettiva oltre ai molteplici video che iniziano con perché grazie di aver guardato vi ricordo oltre al libro il risveglio sempre in pronta consegna che collaboro con l'esclusivo canal 104 plus e che ha apprezzato anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè